Ti ho voluto invitare qui perché noi ci siamo conosciuti esattamente 20 anni fa quando tu da assessore allo sport stavi incominciando a interessarti dei possibili problemi statici e di sicurezza legati al palaghiaccio. Oggi la situazione è quella che è. Come la stai vivendo e soprattutto perché secondo te siamo arrivati fin qui con le società a spasso e l'impianto chiuso in attesa di una riqualificazione che ci si augura parta davvero presto. Allora articolo 1 io non critico nessuno perché ho provato sulla mia pelle che cosa vuol dire rapportarsi con determinati impianti quindi ci mancherebbe. Mi dispiace da morire perché questo è l'impianto è stato sarà non lo so in assoluto più usato di tutta la provincia di Varese. Io ricordo perfettamente una delle prime giunte quando al bilancio c'era il grandissimo assessore Paolo Soletta il quale giustamente ragionando sui numeri, squisitamente sui numeri, lui disse bene il palaghiaccio non rende domani lo chiudiamo. E qui a quel punto lì io quasi svenni. Comunque sia tanto per far capire che effettivamente è un problema che è atavico. Io ricordo che a spizzichi e bocconi si poteva fare determinati interventi ma faccio un esempio banale. Sugli impianti sportivi intervengono e sono sempre stati puntuali ci mancherebbe i lavori pubblici. Io avevo cercato di spostare il problema dicendo ma siccome gli impianti sportivi sono comunali e li utilizzano un sacco di società non possiamo andare ai lavori pubblici e dire c'è una doccia da riparare al palaghiaccio e la pratica finisce su tutte le altre sulla asfaltatura, sulla sistemazione. Ci sarebbe voluto una task force solo ed esclusivamente per gli impianti sportivi cosa che però non fu realizzabile e non è stata mai realizzata. Anche perché diciamoci la verità ma qui lo dico da uomo di sport per l'amore di Dio è il mio settore io capisco di questo sono 40 anni che sono in ambito sportivo. Lo sport come anche altri link del panorama italiano interessa molto quando ci sono i convegni o quando ci sono le premiazioni perché si viene lì si fa la foto e buonanotte ai suonatori. Come è possibile che non ci sia stato quel minimo non di lungimiranza ma perlomeno di cautela per spingere tutta questa macchina a muoversi prima? Guarda io non ne faccio una questione politica perché mai sono fuori e non mi interessa più, non ne faccio una questione politica e mi ricordo che noi cercavamo di far pesare il fatto che fosse un impianto sovraccomunale perché al palaghiaccio di Varese vengono da tutta la provincia e io cercai di coinvolgere l'ente provincia, i comuni viciniori perché non è solo un patrimonio della città di Varese, non era solo quello però la risposta fu praticamente nulla, nel senso tradotto oh il palaghiaccio a Varese sta andando in frantumi, pensateci voi questo è perché noi siamo la realtà dei campanili, questa è la verità.